Nella regione delle banane e dei papaveri le regole imposte dalla legge vengono sistematicamente calpestate nel silenzio più o meno generale che spesso avvolge anche gli organi istituzionali preposti al controllo e così capita che la giunta regionale con delibera numero 223 del 16 giugno scorso nomina dirigente dell'ente la dottoressa Lorella Palladino già segretaria generale della Camera di Commercio al tempo di Paolo Frattura a capo dell'ente camerale la delibera in questione specifica che non si tratta di comando e che la Palladino assumerà l'incarico di direzione in titolarità del servizio dirigenziale di supporto all'autorità di gestione dei fondi comunitari POR, FERS, FSE in materie di aiuti in particolare l'ex segretaria generale della Camera di Commercio sta già lavorando con la regione nella gestione dei tirocini formativi over 30 finanziati con 1.600.000 euro destinati per metà ai disoccupati residenti nel perimetro dell'area di crisi complessa e la restante parte pari a 800.000 euro destinata a chi risiede nelle zone escluse dall'area di crisi. La delibera dell'aggiunta precisa anche che Lorella Palladino è in posizione di distacco per la durata di 12 mesi e che la Camera di Commercio provvede al pagamento della paga tabellare circa 42.000 euro l'ordi l'anno, mentre la parte relativa alla retribuzione di posizione e di risultato è a carico della regione che utilizzerà il fondo per le prestazioni accessorie del personale con qualifica dirigenziale. Appare chiaro che Frattura, tringerandosi dietro un protocollo d'intesa sottoscritto con la Camera di Commercio, di fatto ha assunto un nuovo dirigente calpestando così tutte le regole inerenti il comando o l'assunzione di dirigenti per i quali è necessario un bando pubblico a carattere nazionale, evidentemente Olga Mogavero e al direttore del servizio risorse umane Claudio Iocca, interessa solo piazzare persone di fiducia per gestire al meglio, in senso clientelare, i tirocini formativi che sotto elezioni consentiranno ai disperati rimasti senza lavoro di guadagnare 500 euro al mese per sei mesi. Peraltro Lorella Palladino cumulerà i 42.000 euro lordi intascati dalla Camera di Commercio e ulteriori 60.000 euro circa l'anno pagati dalla Regione con i soldi dei contribuenti. Sarebbe ora, come richiesto da più parti, che gli organi preposti al controllo sulla legalità e la Corte dei Conti si attivassero per stroncare sul nascere le illegittimità amministrative pagate con i soldi pubblici.